Questo filmato lo vogliamo dedicare con tutto il cuore ai nostri amici e parenti dell'amica Concetta. Noi conosciamo che c'è una speranza, la speranza che Dio ha promesso e Dio non mente. La resurrezione e Concetta sarà nuovamente in mezzo a noi. A tutti quanti voi dedichiamo questo filmato con il cuore, perché con il cuore abbiamo amato l'amica Concetta. Quanto amore Cristo mostrò, il cielo e il suo padre lasciò. Quell'amore soffrì con l'umanità e proclamò la verità. Sommice, i muti sanno, conforto al mondo morto. A mostrare lontano il tuo conto, dicendo così, lo voglio. Sommice, i muti sanno, conforto al mondo morto. Risomice, i muti sanno, conforto al mondo morto. Qui dà Dio, rovene per noi, possiamo fedele ну e gira. E così tutti noi la sua verità portiamo a chi l'accederà. Quando poi vediamo fra noi qualcuno che in difficoltà a mostrare bontà siamo pronti dicendo anche noi lo voglio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.